Il sogno del Presidente Rodi? Beh, intanto l'anno prossimo riuscire ad arrivare all'obiettivo che è praticamente la C Unica e poi da lì vediamo, insomma, anno per anno quelli che saranno gli obiettivi. Cosa si aspetta il Presidente da questo pubblico, da questa piazza e da questa esperienza? Diferentemente dai risultati? Diciamo che innanzitutto il divertimento è la cosa più importante e quindi che vengono qua riescono ad essere trasportati sicuramente dalle emozioni, da divertimento e quindi anche dai risultati sicuramente, dai, perché poi è la cosa più importante. Il Presidente invece? I risultati. Intanto guardiamo a oggi che se fosse stato il prossimo anno, all'ultima giornata saremmo comunque in prima divisione. Già qualcosa di positivo cominciamo con il nuovo Presidente e cominciamo a fare. Sì, per quello che riguarda il nuovo tecnico penso che cominceranno i colloqui e penso che i premi della prossima ancora. Comunque non abbiamo fretta perché se considerate che l'anno scorso abbiamo iniziato fino ad agosto, quest'anno possiamo anche andare un po' più tranquilli. L'esperienza di altri predizioni con Mantua quest'anno, alla fine Mantua ha chiuso noi.